Ciao amici di MyFootballJersey, oggi vedremo insieme la maglia di casa del Leeds United per la stagione 22-23, quella appena incominciata, in edizione FAN. Prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete i dettagli, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla fine, ciao! La piattaforma globale di Shopping Online Wish fa il suo debutto come sponsor della divisa casalinga dei Leeds United 2022-23 con il loro nuovissimo logo posizionato sulla manica sinistra. Presentando un design pulito, la maglia da calcio Adidas Leeds 22-23 è prevalentemente bianca con un motivo molto tenue, costituito dal classico logo LUFC. Questo è in onore del cinquantesimo anniversario della vittoria dell'FA Cup del 1972. Le finiture blu e gialle sono presenti nella forma del colletto e dei polsini delle maniche che corrispondono esattamente ai rispettivi colori utilizzati sul logo del club e sullo sponsor. Cosa ne pensate? Secondo me è una bella maglia, non una delle mie preferite e per questo nella mia classifica prende, tra virgolette, solo tre stelle. Una maglia bianca, bello il contrasto, blu scuro, giallo fluo, bello diciamo così questa scritta nella trama, però rimane comunque una maglia un po' troppo semplice, diciamo così. Nella mia classifica, vi dicevo, prende tre stelle, però il costo è veramente bassissimo e peraltro se uno ama questi colori è una maglia da comprare, assolutamente. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un coupon per avere uno sconto di 3 dollari da spendere sul sito. La qualità della maglia è comunque ottima, la spedizione è stata veloce, è arrivata in 23 giorni. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa, quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie!